Allora passerei al punto numero due, interrogazione del gruppo consigliare Misto su via Fola, Ronchi, Villa Berza. Giorgio Caselli. Buonasera a tutti. Questa è un'interrogazione che abbiamo presentato perché ci sono delle persone che abitano in quella zona e ci lavorano e si sono lamentati giustamente perché anch'io sono andato a fare un piccolo sopralluogo e devo dire che hanno 100.000 ragioni. Il problema principale è quello del manto stradale che certamente, poi Giorgio lo sa bene perché secondo me ci si è anche andato a vedere, quindi ecco, il manto stradale come in tante altre strade è veramente pietoso. Poi qui abbiamo un altro problema che è la larghezza della strada che in molti punti è di soli 3,40 metri complessivi e anche il codice della strada nell'articolo 140 dice che una strada a doppio senso di marcia deve essere almeno di 2,75 per ogni senso. Mancano totalmente delle piazzole per potersi fermare per lasciar passare una macchina, almeno quelle sarebbero necessarie perché se si incrocia soprattutto il cambio della spazzatura, un cambio medio grosso e una macchina non ci passano assolutamente in 3,40. E questa strada è anche frequentata da podisti e quindi va bene anche lì aumenta il rischio. A monte non dovrebbero esistere problemi per allargare la strada se non quelli derivanti dal taglio di alcune piante che sono proprio a confine tra la strada e l'argine. Quindi anche lì visto le varie delibere comunali e varie regole che dicono di togliere quelle piante perché soprattutto d'inverno con la neve cadono dei rami, cade della neve sulle macchine. Io penso che con un piccolo sforzo sarebbe possibile risolvere il problema. Il problema dell'asfalto ci dirà poi dopo Giorgio cosa hanno in mente di fare e qual è soprattutto il tempo per realizzare queste modifiche e questi interventi. chiedo pertanto all'assessore competente di trovare le risorse per poter effettuare quello che serve. Grazie. Allora intanto buonasera a tutte e grazie dell'interpellanza. Per quel che riguarda l'asfalto in questi giorni stiamo preparando le gare e gli affidamenti. Io spero che se il bel tempo rimane entro il 20 di maggio, dopo il 20 di maggio, entro i primi di giugno di partire proprio nei punti più brutti. Questa in parte è una strada che abbiamo messo nel nostro capitolato. Per le altre richieste adesso io ti leggo quella che è le risposte perché ci sono dei vari punti proprio dal codice stradale. Perciò te la leggo proprio come è stata preparata. Per quel che riguarda la larghezza della strada si precisa che non è prevista da alcuna norma una larghezza minima della careggiata per le strade a doppio senso di circolazione. Ma l'ente proprietario della strada competente alla regolamentazione della circolazione che sulla base dell'interesse pubblico e a seguito di attenta valutazione di alcuni elementi che caratterizzano la circolazione e l'intensità del traffico la necessità di garantire un doppio senso di marcia al posto di un senso unico. La presenza di utenti deboli nella strada, ciclisti, pedoni e in numero rilevante o meno decide appunto la modalità di regolamentazione della circolazione su ciascuna strada se a senso unico o doppio senso di marcia. Esiste però un limite minimo di larghezza nelle corsie di marcia. Se tale corsie vengono tracciate infatti a norma dall'articolo 140 regolamento di esecuzione del codice stradale la larghezza delle corsie deve essere scelta tra i moduli 2,75, 3 metri, 3,25, 3,50 o 3,75 riducibili a 2,50 negli attestamenti delle intersezioni urbane. È possibile, atteso che non sono ovviamente tracciate le corsie di marcia ma solo le carreggiate, derogare al limite dimensionale di cui sopra infatti le strade segnate hanno solo il limite di carreggiate e non di corsia. Per quanto riguarda le piazzole di scambio fino all'incrocio con via Folo sono difficilmente realizzabili non tanto per rami o alberature quanto per la morfolosia del terreno, scarpate a monte o a valle della strada. Le aree idonee, le banchine, sono già fruibili per gli scambi di mezzi ingombranti perché lì ci sono delle scarpate abbastanza impegnative. Adesso comunque questo andremo poi a vedere qualche punto in più. Quasi la totalità degli alberi e arbusti ricadono su mappali di proprietà privata. La cura e manutenzione spetta quindi al proprietario dell'area. Il Comune nel corso degli anni passati ha gestito alcune criticità nel citato tratto richiedendo al proprietario di intervenire per la manutenzione di alberi e o rami che si prendono oltre al confine stradale potrebbero creare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre è stata emessa sempre nel corso del 2021 un'ordinanza sindacale per la manutenzione e pulitura di ripe, sepe e alberi limitrofi alle strade comunali e viginate ad uso pubblico. Gli uffici preposti, questo lo stiamo facendo anche in questo periodo, preposti al controllo stanno verificando l'avvenuto temperanza delle disposizioni sindacali per poi attivare le successive azioni previste dalla legge. Noi cerchiamo di mandare i vigili o qualcuno a vedere dove viene mandata quest'ordinanza se gli utenti fanno quello che gli è stato chiesto, però alcuni ci sentono e altri purtroppo non ci sentono. Per le banchine o gli spazi come chiedi tu, qui le normative sono, cioè le normative, quello che è stato detto è questo qua, però adesso appena possibile andremo a vedere se in qualche punto si può fare, perché lì ci sono delle scarpate molto ripide, sia di sopra qualche duna si può fare, ma non tante, perché di sopra monte specialmente ci sono delle rive abbastanza... e poi c'è da ritenere, c'è da vedere che sono tutte proprietà private, il comune su quella strada lì abbiamo guardato i limiti sono veramente veramente pochi, infatti anche le piante sono quasi tutte su suolo privato, anche l'ultima che è venuta giù l'altro giorno lì ai Ronchi era di una signora privata che abita via, infatti è stata chiamata, gli era stata mandata la lettera l'anno scorso prima della nevicata. Purtroppo cerchiamo di far rispettare le normative, ma non sempre viene rispettata. Questo è quanto, grazie. Giorgio. Mi fa piacere sentire che per l'asfalto dovete appaltare e poi verrà asfaltato. Comunque non è che ci siano delle rive tipo la pietra di Bismalto, lì va bene anche se è di proprietà privata per fare delle piazzole, per fare degli scansi in modo che quando si incontrano due veicoli che non ci passano, almeno due o tre si potrebbero fare tranquillamente, adesso va bene, devono fare anche più di 100 metri in retromarcia se c'è un camion o una macchina e dovendo procedere in retromarcia sai anche tu il pericolo qual è, soprattutto nel periodo invernale. Quindi non penso che fare va bene due o tre piazzole sia un problema per quel che riguarda le piante, sì, basta. A me ad esempio mia moglie è arrivata per Boastra che è arrivata da Carpinetti e abbiamo provveduto immediatamente a fare quello che c'era da fare. Quindi quando va bene le piante scaricano la neve e sono pericolose, penso che già che è una delibera comunale che non ci sia alcun problema e chiaramente debbono intervenire. Comunque datti da fare per favore perché altrimenti vengono su tutti dai ronchi e da fuori e poi ti mettono mano. Vi fa piacere che ci sia Lorano qui perché anche a lui è arrivata la lettera. È già pronto. C'è un fico che ci va ogni tanto con la pinza. Grazie. No, era una battuta. Bene, allora andiamo al punto 3. Interrogazione del gruppo.